di questa vita che ho fatto ho imparato a capire che il poliziotto vive tante vite questo l'ho imparato bene nella squadra mobile perché lavorando sull'abitante vivi la vita della stanza, lavorando sulla vittima della misura vivi la vita della vittima e dell'assassino vivi tutte queste vite il poliziotto ha questa particolarità che nella sua vita vive tante vite per questo io penso che profondamente sono convinto ed è quello che sono che la polizia non sia un lavoro, il poliziotto non è un lavoro ma è uno stile di vita e un modo di vivere